Liberi uguali, difficilmente potrà governare da solo, come sarebbe possibile un'alleanza col PD che sembrerebbe l'alleato più vicino ma dopo gli strappi di Bersani e D'Alema? Ma adesso non ci poniamo il tema delle alleanze anche perché votiamo in un sistema che è sostanzialmente proporzionale, quindi ora chiediamo i voti agli elettori sulla base della nostra specificità che è rimettere al centro le persone. Noi certamente parleremo anche di economia ma l'economia deve essere al servizio delle persone e non viceversa e quindi per noi le priorità sono il fisco per la ridistribuzione delle risorse che in questo paese è fondamentale e poi il lavoro e scuola. Quindi Jobs Act, Legge Fornero, quali sono le vostre visioni? Da superare perché noi pensiamo che serva un contratto a tempo indeterminato, pochissime eccezioni per i contratti invece a tempo determinato che devono costare di più dei contratti a tempo indeterminato e poi naturalmente noi prevediamo però una cosa seria, che ci siano tre mesi di prova, poi fino a tre anni anche per formare il lavoratore ma dopo tre anni ci deve essere l'assunzione garantita dal fatto che non si può essere licenziati se non per giusta causa o giustificato motivo. E i tempi per attuare queste riforme? I tempi dipendono dalla forza che ci daranno gli elettori.